Qualche ora fa è arrivata la risposta del prefetto Franco Gabrielli alla diffida dei consiglieri di opposizione. La risposta del prefetto Gabrielli recita nelle sue conclusioni L'atto di diffida adottato dalle signorie loro, cioè dai consiglieri di opposizione, si pone quindi al di fuori del perimetro definito dalle norme vigenti e rappresenta un grave vulnus del principio enunciato. Si rappresenta quindi che ove tale comportamento dovesse reiterarsi, potrebbe concretizzarsi il caso delle gravi e persistenti violazioni di cure all'articolo 142,1 e 2 del testo unico degli enti locali, con conseguente sospensione e rimozione degli amministratori coinvolti. Quindi, cartellino giallo per l'opposizione.